Ancora lui, ancora Tony Cairoli. Domenica in Brasile il siciliano ha vinto l'ottavo titolo di campione del mondo, il sesto nella classe regina e ora, a 28 anni, guarda da vicino i 10 titoli vinti da Stefan Evers, il suo idolo. Domenica nel sedicesimo appuntamento stagionale Cairoli ha festeggiato il grande successo con un terzo posto di giornata. Ancora un podio, nonostante i problemi alla vista, causati da un inconveniente alla maschera il sabato e che ha portato a un fastidio anche nelle due match della domenica. Cairoli ha terminato gara 1 al quinto posto, mentre nella seconda hit ha chiuso sul gradino più basso del podio, due risultati più che sufficienti per essere incoronato ancora una volta. Per la cronaca, la vittoria di giornata è andata a Maximilian Nagol e la seconda piazza a Gauthier Polin. «Sono felicissimo per questo titolo e molto soddisfatto della mia stagione», ha detto Tony a fine gare. «Sono andato quasi sempre a podio e ho guidato bene. Desidero ringraziare tutti quelli che lavorano con me, i miei tifosi per il grande supporto e voglio dedicare questo titolo alla memoria di mio padre Benedetto». MX2 appannaggio di Roman Feff davanti a Ferrandis e Geyser, mentre in campionato occhio a Jordi Tixier, che potrebbe approfittare della prolungata assenza di Hurlings dopo l'infortunio al femore del luglio scorso. Non è detto che il leader riesca a tornare in pista questo weekend in Messico, ma il finale della MX2 sarà comunque incandescente o, come ha detto lo stesso Hurlings, «ora sarà tutto ancora più avvincente». Il tricolore italiano motocross ha dato il primo verdetto, Michele Cervellin è il campione italiano MX2. Il pilota Honda non si è accontentato di amministrare il buon vantaggio che già aveva Sudangelo, ma è andato a prendersi una bella doppietta. Il suo diretto rivale gli ha dato filo da torcere, però ha chiuso al terzo posto di giornata dietro al nuovo campione Matteo Bonini. Cervellin si prende così la seconda grande soddisfazione del 2014 dopo aver vinto il motocross delle nazioni europee con la maglia azzurra. Tutto ancora da decidere nella MX1, che a cingoli ha visto vincere prima Samuele Bernardini e poi Daniele Bricca, migliore di giornata, proprio davanti al campione europeo MX300. Christian Beggi ha chiuso al terzo posto, ma è ancora leader della generale. Ora conta 326 punti di vantaggio su Bernardini, 382 su Bertuzzo e 426 su Bricca. I quattro sono matematicamente in gioco per vincere il campionato, ma l'indiziato numero uno rimane ovviamente Beggi. Il 21 settembre ad Arco di Trento si chiuderà il tricolore. Solo in quel momento potremo sapere chi sarà stato il migliore. Il gran finale dell'italiano motocross sarà trasmesso in diretta da Dinamica Channel sul canale 249 del Digitale Terrestre. Impossibile non esserci. Lombardia, Veneto, Lazio. Si è chiuso così il motocross junior delle regioni e è andato in scena domenica a Roma. Il Veneto, campione in carica, ha lasciato lo scettro alla Lombardia, che ha staccato gli avversari di ben 10 lunghezze. La squadra composta da Bonacorsi, Lesiardo e Lugana ha raccolto 8 punti contro i 18 del trio Bastianon-Zancarini-Zonta. La regione di casa ha conquistato il terzo posto con Facca, Furbetta e Lata, che hanno chiuso il podio con un punto di distacco sull'Emilia-Romagna, quarta. A livello individuale, ottime prove di Bonacorsi, Zanotti e Furbetta, capaci di vincere rispettivamente le manche delle classi 65, 85 e 125. A questo punto non rimane che a sputtare il trofeo delle regioni motocross, quello dei grandi, in programma il 12 ottobre a San Severino Marche. Grazie a tutti! Grazie a tutti!